Non mancano le buone notizie, non riguardano soltanto gli ultimi tre successi consecutivi che hanno rilanciato le ambizioni del Cerignole in chiave promozione. Ieri, infatti, la penalizzazione di un punto, inflitta dal Tribunale Nazionale federale al Taranto, ha regalato la seconda posizione solitaria in classifica alla squadra di Dino Bitetto, che non deve più condividere la piazza d'onore del Girone H con gli Ionici, il principale obiettivo. Però è sempre lo stesso inseguire la capolista Picerno, distante quattro lunghezze, sperando di rossicchiare qualcosa alla regina del raggruppamento, prima dello scontro diretto in programma, la penultima giornata al Monterisi. Le partite adesso hanno un valore importante, importantissimo. In questo momento dovremmo disputare delle partite dove bisogna abbassare il ranking di errore. Da diverse settimane, intanto, è lotta a tre ormai per la promozione. Tre professionisti quando mancano dieci giornate al termine del campionato di Serie D. Importantissimi saranno a tal proposito gli scontri diretti, in particolare proprio quello tra Cerignola e Picerno prima di quell'appuntamento. Però i Giallo Blu hanno altri otto incontri da disputare. Il primo, molto complicato, domenica contro un Savoia in salute e in piena corsa per i play-off al Monterisi. Si giocherà a partire dagli ore 15. Affronteremo una partita importante per il proseguo contro una squadra di qualità, una squadra che esprime un buon calcio. Sicuramente sarà una partita difficile, come lo saranno tutti da qua in poi. Vuole il tutto esaurito al Monterisi il presidente Nicola Grieco in un momento delicato e forse decisivo della stagione e oltre a chiamare raccolte i propri sostenitori. Il Cerignola, in occasione della gara con il Savoia, ha deciso di coinvolgere anche le scuole con una simpatica iniziativa, ingresso gratuito per i più piccoli, sconto speciale per genitori e maestri. La squadra ha bisogno del pubblico, ha bisogno perché il calore si avverte, si avverte in campo e la squadra d'altronde deve poi anche trascinare il pubblico con le proprie prestazioni, con la volontà di una squadra che non mola mai. All'andata il Cerignola espugnò lo stadio Girò di Torre annunziata per 2-0 con reti di Longo e Lattanzio. Domenica servirà necessariamente il bis per continuare la rincorsa alla capolista Picerno.